Clicca su abbonati per passare a Redoc Gold e vedere tutti i video futuri del canale in anteprima e senza pubblicità. Oggi ragazzi parliamo di una storia che ha sconvolto moltissimi fan della Marvel e devo dire questa volta giustamente una delle storie più iconiche di Deadpool, magari non così profonda come alcune storie di cui abbiamo parlato magari più della DC, no? In cui, effettivamente, magari la morale filosofica c'è, ecco qua, me, ok? Più figa che è filosofica questa storia, molto molto famosa e stiamo parlando della volta in cui Deadpool ha letteralmente ucciso tutti i supereroi, letteralmente tutto l'universo Marvel. Tra l'altro, secondo alcune indiscrezioni, questa storia potrebbe essere il punto di partenza per quello che sarà Deadpool 3. E già così, e già così, dovete mettere mi piace a questo video per farlo girare sempre di più, perché ragazzi stiamo cercando di fare proprio questo, cercare di raccontare le storie originari a fumetti per vedere anche un po' come verranno riadattate in futuro nel mondo del cinema. Chi lo sa, ragazzi? Poi, ovviamente, sapete che nei riadattamenti si cambiano moltissime cose, alcune cose vengono lasciate indietro, altre invece vengono completamente modificate. Comunque, questa è una storia molto particolare, che da vedere, secondo me, al grande schermo sarebbe super divertente, veramente molto molto divertente. Siete pronti, ragazzi? Io, come al solito, vi ricordo prima di tutto di iscrivervi a questo canale. Non vi dico la percentuale degli iscritti perché non abbiamo più voglia adesso, voi dovete solo iscrivervi a questo canale, soprattutto quando si parla di storie del genere. E, tra l'altro, visto che stiamo raccontando tante storie della Marvel, scrivete nei commenti qual è la prossima storia che vorreste vedere. Comunque, la nostra storia inizia con il Watcher. The Watcher, che ci parla praticamente cicerone all'inizio della storia. Ci prepara a una storia di dolore e terrore. Ci presenta lui stesso questa storia. Per chi non lo sapesse, il Watcher è questa creatura che è talmente evoluta e intelligente che va oltre il concetto di spazio-tempo e semplicemente osserva, infatti l'italiano sarebbe osservatore, l'ho chiamato proprio all'americana, osserva semplicemente tutti i fatti del multiverso. Se non leggete i fumetti, comunque, dovreste conoscere l'osservatore perché appare anche nella serie What If? E quindi la storia inizia al Baxter Building, dove abitano principalmente i Fantastici Quattro. Vediamo che Mr. Fantastic sta morendo tra le braccia di sua moglie, Sue Storm, la moglie invisibile. Gli dice che i bambini sono scappati nella zona negativa perché lì sono più al sicuro e che a quanto pare colui che ha attaccato il Baxter Building ha anche rubato qualcosa di molto, molto importante. Comunque, Sue Storm, ancora viva, diventa invisibile e inizia a cercare chi ha ucciso suo marito, che appunto sarà morto di lì a poco. Trova Ben Grimm, la cosa che è già morto, tra l'altro, e vede anche suo fratello. Anche lui sta lottando tra la vita e la morte. E quindi finalmente vediamo anche chi ha attaccato il Baxter Building, ed è proprio Deadpool. Deadpool comunque taglierà la testa di Johnny davanti alla donna invisibile, che verrà veramente scioccata da questa scena. E tra l'altro gli schizzi di sangue andranno su Sue Storm, che appunto si era resa invisibile, e quindi Deadpool la noterà. Sfortunatamente per lui però, anzi non so in realtà quanto serva questa cosa, la donna invisibile utilizza una delle abilità più potenti che hanno i Fantastici Quattro, che le utilizza pochissimo, e di fatti crea una barriera praticamente invisibile all'interno del cranio di Deadpool, facendogli saltare la testa. Convinta di averlo ucciso, abbassa la guardia, ma vediamo che grazie comunque ai poteri di rigenerazione di Deadpool, la testa ricresce ed è in grado di uccidere anche la donna invisibile. E poi, l'osservatore ci racconta anche come inizia da questa storia. Difatti vediamo che gli X-Men hanno preso Deadpool, di forza, e l'hanno portato in un ospedale psichiatrico, dove il dottore in realtà era un villain chiamato Psycho Man, che inizia a torturare Deadpool e non solo non lo cura, ma lo fa diventare ancora più pazzo. Difatti, nella testa di Deadpool compare una nuova voce, una nuova vocina che gli dice di uccidere, uccidere tutti quanti. Difatti, grazie a questa voce, Deadpool decide di liberarsi dalla sua prigionia, manda in fiamme il manicomio in cui è stato rinchiuso, e uccide anche Psycho Man, decidendo di uscire fuori per distruggere tutto l'universo. Proprio in questo momento, l'osservatore, che era il narratore di questa storia, viene attaccato da qualcuno. E questo qualcuno è proprio Deadpool, ragazzi. Difatti, quello che aveva rubato Harry Richard era solamente un artefatto, diciamo, un classico macchinario alla Fantastici V4, che permette di viaggiare per le dimensioni. Proprio grazie a questo cangegno, Deadpool riesce a raggiungere l'osservatore e riesce a tagliargli la testa. Nel frattempo vediamo che Deadpool, il giro per il mondo, ha ucciso tantissimi personaggi, villain e non, come per esempio il Dr. Doom addirittura, Ghost Rider. Addirittura vediamo che c'è un combattimento tra Deadpool e Spider-Man, uno dei combattimenti più fighi, tra l'altro, di questa storia, perché non è che ce ne sono tanti. In realtà, vediamo che dopo un po' finalmente riesce a stancarlo e riesce a semplicemente piazzare una pallotta nel cranio di Peter Parker, uccidendolo davanti a una folla di osservatori. Gli Avengers comunque si riuniscono, perché anche alcuni eroi fortissimi, come Black Panther, sono morti. E a un certo punto entra Jarvis all'interno della Avengers Tower, avvertendo tutti che, a quanto pare, Hank Pym, Ant-Man, non si trova più e anche la sua tecnologia è scomparsa. Dopo quelle parole, esploderà letteralmente l'intera Avengers Tower, uccidendo tutti, tranne due Avengers, Thor e Luke Cage. Luke Cage, infatti, è invulnerabile praticamente a tutto quanto, però Deadpool ha pensato anche a quello. Infatti, ha rimpicciolito a dismisura degli esplosivi e li ha inseriti nel caffè di Luke Cage poco prima e quindi lo fa esplodere dall'interno. Quindi l'ultimo Avenger rimasto è proprio il dio del tuono. Anche in questo caso, Deadpool utilizzerà le particelle di Pym per aumentare, in realtà, a dismisura la grandezza del martello, che tornando indietro al suo proprietario, ovvero Thor, lo spaccherà in mille pezzi, praticamente. E in due minuti, Deadpool ha ucciso tutti gli Avengers. Rimarrà ovviamente Hulk, che non era presente in quella cosa, che è un avversario quasi troppo potente per Deadpool. Difatti, in realtà, Hulk vince contro Deadpool, cioè rompe il suo corpo in 3.000 parti diverse, però alla fine, ovviamente, deve riposarsi perché sta arrivando la notte e quindi va a dormire in una caverna. Qua comunque vediamo che Deadpool ovviamente si è rigenerato e quindi torna per uccidere Bruce Banner quando è ancora nella sua forma umana. Comunque, Deadpool ha ferito tantissime persone nel corso di questa storia, tra cui per esempio May Parker e Mary Jane, che letteralmente insieme a tantissimi altri parenti, amici di eroi, decidono di fare una raccolta fondi per assoldare l'assassino più forte del mondo, ovvero Taskmaster, che si mette alla ricerca di questo Deadpool impazzito e vediamo che nel corso di questa avventura Deadpool ha ucciso di tutto e di più, tra cui alcuni villain come per esempio il Green Goblin e anche Venom. E qui abbiamo una delle scene più fighe di questa storia, difatti vediamo che Deadpool si è intrufolato, diciamo così, nel quartier generale degli X-Men e ha catturato anche il professor Xavier per torturarlo. Perché lo sta torturando? perché così lo costringe a chiamare tutti gli X-Men che per arrivare in quel punto lì cadono in tutte le varie trappole che ha messo Deadpool in giro per l'Accademia. E vediamo la morte di Colossus, di Ciclope, di praticamente tutto il team degli X-Men. Tutto questo succede tra l'altro davanti agli occhi di Xavier che vediamo tra l'altro anche piangere in questa storia, una scena veramente tristissima. Tra l'altro qua Deadpool ringrazia Xavier perché gli dice grazie a te e grazie al fatto che tu mi hai messo di forza in quel manicomio finalmente hai sbloccato la mia vera natura ora io finalmente sono me stesso. E qui Xavier fa l'unica cosa che gli rimane da fare cerca di leggere quello che c'è all'interno della mente di Deadpool e questa cosa lo sciocca e morirà anche per lo shock. Però non ci viene detto esattamente che cosa ha visto almeno per il momento. L'ultimo X-Men rimasto tra l'altro come potete immaginare Wolverine che è sicuramente la challenge più grande per Deadpool però da quello che vediamo si è fatto anche una spada con un materiale molto particolare della Marvel che è l'unico materiale che può annullare il fattore di rigenerazione di Wolverine e quindi inizia un combattimento dove Deadpool lo sottolinea che nonostante Wolverine sia sempre più popolare di lui e lo usarà per sempre niente lo fermerà dall'ucciderlo. Comunque Taskmaster arriverà addirittura al Santo Santorum la base del Doctor Strange ovviamente indugnato un po' ragazzi lo troverà morto e qui scopriamo che a quanto pare anzi Taskmaster scopre che Deadpool sta cercando il Nexus di tutto l'universo e quindi il suo obiettivo è quello di distrugge l'intero universo nel frattempo vediamo che la morte di tutti questi eroi di tutti questi villain ha fatto impazzire quelli rimanenti che letteralmente stanno causando il caos per le strade di tutte le città del mondo uccidendosi e vicendo uccidendo anche i civili comunque dopo aver ucciso altri eroi addirittura alcuni eroi e villain si suicideranno per evitare la morte per mano di Deadpool alla fine Deadpool inizierà addirittura ad andare in giro per la galassia uccidendo alcuni personaggi super potenti come per esempio Silver Surfer addirittura anche Thanos finalmente comunque in una palude Taskmaster trova il Deadpool impazzito e qui inizia il combattimento forse più lungo veramente di questa storia in cui non abbiamo solo il classico combattimento ma anche un bel dialogo di fatti Deadpool dice che la sua morte sarà in dolore cercherà di farlo il più velocemente possibile perché in realtà uccidere tutti secondo Deadpool in realtà serve solo a salvarli lui vuole evitare che le persone in questo universo vengano utilizzate come dei pupazzi come delle marionette letteralmente comunque sapete qual è l'abilità principale di Taskmaster se siete fan della Marvel lo sapete la sua abilità è quella di imitare al 100% l'abilità dei suoi avversari quindi inizia di imitare il modo di combattere di Deadpool e quindi piano piano imitando il suo modo di combattere imita anche il modo di pensare e imitando il modo di pensare di Deadpool inizia anche lui a sentire quella voce nella sua testa è una cosa che fa molto molto ridere Deadpool di fatti Taskmaster in questo momento qua lo vediamo spaventatissimo e per un personaggio del genere è un evento più unico che raro tra lo shock generale arriverà anche Manfing che tranquillamente ucciderà Taskmaster che manco si rende conto di tutto questo e Deadpool convince Manfing di autodistruggersi perché ormai Deadpool ha quasi compiuto quello che deve fare deve andare nel nexus di tutte le realtà e distruggere tutti gli universi è arrivato il suo momento e difatti Manfing si autodistrugge letteralmente dopo queste parole Deadpool quindi entrerà in un nuovo portale e arriva in un mondo che niente di che è in realtà è il classico mondo che conosciamo sembra non aver nulla di strano ma arriva alla porta di alcuni scrittori e fumettisti che stanno scrivendo indovinate un po' un fumetto che si chiama Deadpool Kills The Marvel Universe vede questi scrittori che si domandano come devono terminare questa storia e che si divertono nel pensare a come Deadpool deve uccidere tutti gli eroi cioè si divertono scrivendo cose che in realtà hanno massacrato letteralmente intere popolazioni all'interno dell'universo Marvel quindi Deadpool tira fuori le sue lame e uccide tutti gli scrittori ma attenzione non finisce qui l'ultima cosa che vediamo di questa storia è Deadpool che si gira e guardano i lettori e dice non vi preoccupate ragazzi una volta che ho finito con questi toccherà anche a voi che state leggendo e Deadpool Kills The Marvel Universe finisce così ragazzi sì perché a quanto pare tirando le somme la voce nella testa di Deadpool era proprio una voce che gli aveva rivelato la verità che si trovava all'interno di un fumetto ed è questo ciò che sciocca Xavier letteralmente quando entra nella testa di Deadpool ed è la stessa cosa che sciocca anche Taskmaster è una storia divertentissima ragazzi proprio in pieno stile Deadpool a me piace molto come avete visto è molto easy cioè non è niente di così profondo e contando appunto che Deadpool 3 sarà un qualcosa incentrato sul multiverso e sulle varie opere cinematografiche e non che abbiamo visto nel corso della storia della Marvel secondo me qualche riferimento a questa storia ci potrebbe anche stare comunque vi è piaciuta questa storia ragazzi vi è piaciuto questo video iscrivetevi e mettete like per supportare il canale soprattutto per non perdervi altri contenuti come questi io comunque ragazzi sono Marra vi ringrazio tantissimo per aver visto anche oggi uno dei nostri contenuti noi ci vediamo prestissimo con altri video a tema Marvel se vi va quindi iscrivetevi mettetevi un piaccio e niente fate i bravi ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti